Vorrei dare la parola al senatore Francesco Verducci che è, come ho già detto, vicepresidente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, per tutto ciò che vorrà dirci sul tema di cui credo che sia anche molto più esperto di noi. Questo non lo so, non penso rispetto alle presenze così importanti e qualificate che sono in aula, ma certamente la palestra di questa Commissione parlamentare è straordinaria e penso sia davvero di grande rilievo, di grande importanza per parlare non solo e sensibilizzare non solo il Parlamento italiano, ma l'intera opinione pubblica di fronte a dei temi che sono decisivi e sempre più pressanti, sempre più politici. Prima di entrare nel merito di alcune questioni, ma anche il mio sarà un saluto come da programma e quindi non mi dilungherò troppo, naturalmente anche da parte mia il ringraziamento al Centro Studi per aver voluto questo convegno che io ho sostenuto permettendo appunto di avere questa sede autorevole del Senato a supporto, quindi un ringraziamento al Centro Studi per la sua attività scientifica e culturale e naturalmente al Professor Nocita che abbiamo appena ascoltato e alla direttrice, la dottoressa Raffaella Di Marzio. Ancora un ringraziamento e un saluto a tutti quanti. Io sono qui nella veste, come la dottoressa Di Marzio ha detto, di Vicepresidente della Commissione straordinaria del Senato, una commissione speciale contro contro le discriminazioni, contro l'intolleranza, contro il razzismo, contro l'antisemitismo, contro l'istigazione all'odio. È una commissione straordinaria, speciale, che ha anche un suo valore emblematico che deriva dalla presidenza assolutamente straordinaria di Liliana Segre. Liliana Segre ha fortemente voluto questa commissione che è stata istituita nella scorsa legislatura, è stata istituita nel 2019 e poi ha cominciato i suoi lavori immediatamente dopo la fase del Covid e siamo, devo dire, molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e abbiamo consegnato con la documentazione conclusiva alla fine dei lavori della scorsa legislatura. Siamo orgogliosi e fiduciosi anche su quello che potremmo fare in questa legislatura. Fatemi salutare anche la dottoressa Paola Gargiulo, che è capo scrittoria della senatrice Segre, che è qui e che ringrazio e che segue sempre tutti i nostri lavori con straordinaria competenza e passione. Non devo dire nulla sull'importanza che questa commissione sia presieduta da Liliana Segre. Liliana è un simbolo, la sua vicenda personale è un simbolo straordinario. Penso non smetteremo mai di ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver voluto nel gennaio del 2018, nella ricorrenza così tragica, così drammatica della promulgazione delle leggi razziali e razziste, come dice sempre Liliana, fasciste, che sono state una parte dentro la vicenda tragica e abominevole della Shoah, aver voluto, dentro quella ricorrenza, conferire a Liliana Segre il titolo di senatrice a vita. Questo impegna enormemente le nostre istituzioni, innanzitutto le istituzioni parlamentari, nei confronti del passato che abbiamo, in modo che quel passato non solo non venga dimenticato, ma diventi un monito attivo, la capacità di trasmettere alle nuove generazioni una coscienza politica e civile in modo da continuare a costruire democrazia, quella democrazia che appunto abbiamo, i nostri avi hanno saputo costruire innanzitutto come repulsione all'abominio del fascismo, delle leggi razziali, di una volontà feroce di discriminazione che il totalitarismo e poi le leggi razziali hanno rappresentato. Parto da questo perché la testimonianza di Liliana, il suo insegnamento a non trasformare mai il dolore in vendetta, ma invece fare in modo che ci sia appunto una politica giusta, è tutto interamente dentro gli articoli più importanti che noi abbiamo forse nella nostra Costituzione e che sono anche la copertura giuridica, certamente, costituzionale certamente, ma anche, mi sento di dire, politica e morale dei lavori che noi stiamo facendo, cioè l'articolo 2 e l'articolo 3 della nostra Costituzione, quelli che richiamano con grande forza, il principio di non discriminazione e il principio di eguaglianza, tra tutti, la riaffermazione della difesa assoluta, intangibile, della dignità inviolabile della persona umana, qualunque sia appunto il suo pensiero, la sua religione, il suo orientamento sessuale, il tema dell'orientamento sessuale non è citato in Costituzione, ma è come se lo fosse, perché poi da lì, da quel diritto primario, naturalmente le convenzioni internazionali, il diritto comunitario, hanno inserito anche questo come tema fondamentale. Certamente lo è il tema della libertà religiosa, a cui oggi voi ci chiamate e io ve ne sono assolutamente grato. È un tema rispetto al quale c'è bisogno di una grande consapevolezza nell'opinione pubblica, una consapevolezza che molto spesso tendiamo a perdere, tendiamo a perdere l'urgenza della difesa, della libertà di espressione di tutte le minoranze. Questo è il tema che distingue una democrazia da invece una società autoritaria o totalitaria. Le democrazie sono quelle in grado di mettere le minoranze al pari di tutti gli altri cittadini. E del resto la codificazione che noi abbiamo in un contesto che, come voi sapete, in realtà non ci consegna una definizione univoca e precisa di discorso d'odio, ma noi abbiamo molto insistito, e io l'ho fatto in prima persona, per far sì che il documento conclusivo dei nostri lavori, il documento conclusivo di un'indagine conoscitiva sui discorsi di istigazione all'odio, un'indagine molto ampia che è durata quasi due anni, con quasi cent'audizioni, ma perché il tema è vastissimo, naturalmente, ma molto insistito perché il cuore di quella relazione conclusiva non si discostasse da tutto il diritto internazionale che individua i discorsi di istigazione all'odio come indirizzati alle minoranze, perché altrimenti noi perderemmo la cognizione di causa, per cui c'è chi, ad esempio, parla di discorso d'odio nei confronti di esponenti politici. Ecco, io penso che questo sia un terreno fuorviante, perché i discorsi di istigazione all'odio sono discorsi discriminatori e quindi potenzialmente totalitari, sicuramente antidemocratici, perché conculcano la possibilità delle minoranze. Nel nostro ordinamento, c'è qui il professor Ceccanti, che è certamente più capace di me di addentrarsi in questi meandri, nel nostro ordinamento di codice penale, noi abbiamo appunto tutto l'istituto della diffamazione legato alla degenerazione dell'espressione e quindi dell'offesa, come veniva citato dal professor Nocita e da Raffaella. Il tema della diffamazione e dell'offesa è diverso dal tema dell'istigazione all'odio, anche se ci possono essere dei punti di congiunzione. I politici o altre categorie che non hanno a che fare con le minoranze possono essere oggetto appunto di diffamazione o di offesa ed hanno anche gli strumenti adeguati per difendersi. Non ci sono, e poi lo dirò, strumenti invece a mio avviso nel nostro ordinamento sufficientemente adeguati per difendere, come si dovrebbe, le minoranze da quel discorso di istigazione all'odio che oggi, tra l'altro, nel tempo che viviamo, il tempo della rivoluzione tecnologica, il tempo della rete, dei social network, che non sono solamente uno strumento di comunicazione, ma sono, fatemelo dire in maniera sintetica, la forma sociale totalizzante nella quale viviamo, quindi davvero un ecosistema complessivo da cui è impossibile trarsi fuori. Ecco, in questo contesto certamente noi abbiamo bisogno di strumenti per affrontare un fenomeno che oggi è sottostimato nella nostra relazione, parliamo di una gigantesca onda amplificata dai social network e anche da una tendenza che qui io voglio sottolineare e poi davvero concludo perché voglio essere fedele alle cose che dicevo all'inizio e non voglio essere troppo lungo, ma amplificato da un fenomeno che è connaturato alla dinamica di questo ecosistema comunicativo che è però capace di sviluppare un volume economico d'affari gigantesco, che è il fenomeno della monetizzazione dell'odio, che noi abbiamo già conosciuto prima che nascesse la rete, in qualche modo anche nella spettacolarizzazione, nella strumentalizzazione di alcune notizie particolarmente ferate nella spettacolarizzazione dello scontro verbale che sin dagli anni 60, ad esempio, abbiamo avuto nel media televisivo, nei broadcaster, che erano funzionali a fare più ascolti ma con certamente un impatto molto negativo sull'opinione pubblica, sulla corretta informazione. Tutto questo è enormemente amplificato in rete perché sappiamo che ci sono degli algoritmi che tendono appunto a monetizzare i discorsi violenti e quindi l'istigazione all'odio per fare profitti oltre poi a tutta la vicenda dell'utilizzo politico dell'istigazione all'odio attraverso la rete o fuori dalla rete o in un meccanismo cross-mediale. Il tema dell'utilizzo politico dell'istigazione all'odio è antichissimo e la vicenda dell'antisemitismo è emblematica, lo sappiamo, abbiamo citato all'inizio la Shoah, ancora adesso torna questo tema dopo il 7 ottobre con un'ondata nuovamente violenta e fortissima di antisemitismo e anche però con fenomeni molto forti di islamofobia. Noi abbiamo detto che è certamente un fenomeno sottostimato perché in mancanza di una definizione giuridica di istigazione all'odio c'è una difficoltà delle vittime a denunciare il fenomeno, quello che gergalmente viene chiamato under reporting, e una difficoltà del soggetto pubblico che riceve la denuncia di riconoscere e di categorizzare l'istigazione all'odio, quello che tecnicamente viene chiamato under recording. E quindi noi abbiamo chiesto che ci sia una fattispecie normativa, anche perché, lo sappiamo, da un anno a questa parte il Parlamento europeo, su iniziativa della Commissione, ha approvato il Digital Service Act che va a contrastare i contenuti illeciti in rete, ma demanda ad ogni singolo paese comunitario una normativa per tradurre questi contenuti illeciti. In assenza di questa normativa noi siamo monchi, in assenza di questa definizione giuridica dei discorsi d'odio nel nostro ordinamento. È chiaro, è mia convinzione, che lo strumento più efficace di contrasto non sia uno strumento penale, ma sia uno strumento legato alla consapevolezza, al lavoro che si fa a livello educativo e formativo nelle scuole, a partire dalla scuola primaria e poi per tutte le scuole dell'obbligo, nelle università. Voglio dire in conclusione che questo tema è urgentissimo, che l'urgenza di questo tema è data anche dall'impatto che avrà l'intelligenza artificiale, che molto più del predominio degli algoritmi ingigantirà senza regole e senza un controllo democratico i rischi che noi abbiamo, perché il rischio principale è sempre quello di una privatizzazione del diritto su questo terreno. Ecco, in questa nostra relazione noi abbiamo voluto però, dentro il contesto che attiene a questa nostra discussione e che riguarda anche la discussione, la letteratura scientifica oramai in tutto il mondo, soprattutto nel mondo democratico naturalmente, noi non abbiamo solamente voluto tenere questo tema, cioè il tema del contrasto discorso di istigazione all'odio, come si fa classicamente, dentro l'equilibrio tra i due fondamenti del costituzionalismo, cioè il fondamento della tutela della libertà di espressione e il fondamento appunto della tutela della dignità della persona e del principio di non discriminazione. Uno, tra l'altro, il tema della primazia della libertà di espressione che è proprio del costituzionalismo anglosassone. L'altro, il tema invece della primazia della non discriminazione e del rispetto della dignità della persona che è perno del costituzionalismo europeo, possiamo dire. non ci siamo limitati a chiedere, a reclamare un equilibrio tra questi due fondamenti delle costituzioni democratiche, liberal-democratiche. Abbiamo detto di più e secondo me dando una risposta più forte a questo tema, cioè abbiamo inserito il tema del discorso di istigazione all'odio come discorso discriminatorio, principalmente tutto all'interno del contesto della libertà di espressione. Perché quando noi difendiamo i discorsi d'odio, perché vogliamo tutelare la libertà di espressione, quello che negli Stati Uniti si chiama free speech, e molti dicono no, non si può intervenire perché dobbiamo tutelare il free speech, ma quelli che dicono così, che vogliono tutelare il free speech, la libertà di espressione, in realtà stanno scegliendo la libertà di espressione degli aggressori rispetto alla libertà di espressione degli aggrediti. E quindi c'è un tema di negazione della libertà di espressione degli aggrediti e delle minoranze. E quindi non c'è solamente il tema di salvaguardare il principio di dignità e di non discriminazione, ma c'è il tema anche allo stesso livello di salvaguardare il principio della libertà di espressione delle minoranze, che altrimenti sarebbe conculcato e con esso le loro potenzialità e il loro protagonismo sociale, civile e culturale. Ognuno di noi, quando riceve un'affermazione violenta, volgare, offensive in rete, tende a ritrarsi, ad andarsene, a non parlare più, per paura. Tutto questo è enormemente accentuato nel caso di discorsi d'odio nei confronti delle minoranze che tengono a ritrarsi, a non parlare più, ad avere paura, a scomparire dalla dimensione pubblica della società. Ed è qui, proprio in questo esatto momento, che la nostra democrazia comincia a rompersi e invece ad affermarsi quel veleno discriminatorio e totalitario che è stato sconfitto ad un prezzo enorme, gigantesco con la Seconda Guerra Mondiale e di cui c'è sempre il rischio che possa riaffacciarsi. È solamente un'iniziativa forte dal punto di vista politico e culturale e penso che il convegno di oggi possa essere a tutti gli effetti un pezzo di tutto questo, è necessaria affinché appunto non torni quel rischio, quel veleno venga fermato, anestetizzato e noi possiamo invece costruire una democrazia solida in cui tutti possano riconoscersi e vivere nel pieno dei propri diritti. Grazie.